Siamo in un contesto meraviglioso, la casa di riposo Cirino Zegna di Occhiepo Inferiore, il presidente Salvatore Aprile. È un impegno mica da poco organizzare una cosa come questa. La festa ha un suo impegno e ogni occasione è un momento come questo in cui possiamo regalare non soltanto la dovuta attenzione ma anche gaiezza e contentezza. Possiamo ristorare non solo lo spirito ma anche il corpo con l'ottimo menu che ci prepara la sezione Alpini di Occhiepo Inferiore. Come si sta dall'alto dei tuoi 104 anni? Ma non posso lamentarmi, sto abbastanza bene, la testa è a posto, a me bisogno di un cambio di gambe. E poi quando sono qui, quando sono con i miei Alpini, invece di 104, mi sono 24. Il Cirino Zegna è una delle strutture di riposo più antiche del territorio bellese ma che ha sempre saputo adeguarsi alle nuove esigenze. La direttrice, Paola Garbella. Il problema grande è quello che dal mio punto di vista non si sta facendo una corretta programmazione di quello che succederà nei prossimi anni e che sarà una percentuale ancora più elevata di popolazione invecchiata. Questo invecchiamento è dovuto senz'altro a un miglioramento generale delle condizioni di benessere, sia dal punto di vista sociale, economico, nell'alimentazione e anche forse negli stili di vita. Sono cinque mesi dal mio insediamento qui a Biella, come prefetto di Biella, per cui quale migliore occasione per festeggiarla insieme a tutte queste persone che tra l'altro rappresentano una realtà fondamentale del territorio. E' festa per tutti ed è festa anche per me, per questa iniziativa meravigliosa che il Cerino Zegna prende ogni anno coagulando tutte le case di riposo del nostro territorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.